Signore Pepe, pirouette spaziale, imbambo l'omba che avversare, attenzione, passaggio filtrato, russalillo, in un scivolata mancica, fretta della rocca, settima sicilia stagionare per imbambo il russalillo, guardatelo lì Pepe, a modo in Zidane, ne ho prego malamente, il museo delle scine dorme, e il russalillo li fuga malamente. Rilascio, stop di direzzi, ottimo passaggio illuminato verso il giro, casicuno in ore di rigolo, attenzione, dupla pass, una posizione impassibile, 3 a 1, non aver restagionare per il giro, mamma che è riuscito del bomber, lo ha in sé, 37 di direzzi, che stoppa 12 in metro, e poi tocchiglio se la trova, lo li vanta a fionda, e poi la metto nella terra, Altra, c'è un po' coliggio, attenzione con te, dando un numero, il libro di un avversario, giri per Domazelli, carica un palletone, amici, 4 a 0 per il cerbinara, half, vintus scandal, guardatelo lì, domazelli, ci fa ricordare uno dei coltimessi più belli, terza per l'assagionare per i bomber, che dal limite carica sul pazzucco e sfonda la porta mamma che botta